Sei morti nelle ultime 24 ore. Il Covid miete altre vittime mentre salgono vertiginosamente i contagi. I decessi riguardano tre uomini e tre donne tra gli 80 e 93 anni, tutti con patologie pregresse. Questo dato fa salire a 3.211 il numero totale dei morti da inizio pandemia. Il numero dei nuovi positivi è di 871 casi accertati attraverso 10.313 tamponi, di cui 7.136 nel percorso diagnostico screening e 4.593 in quello antigenico. Il tasso di positività sale al 12,2%. La provincia più colpita è quella di Ancona con 286 casi, seguita da Pesaro Urbino con 162. Nel Fermano si registrano 153 casi, mentre nella provincia di Macerata i positivi sono 138. Nel Piceno ne sono stati rilevati 88, mentre 44 sono fuori regione. Sempre più in alto il tasso di incidenza di positività dal Covid nella regione Marche. Ogni 100.000 marchigiani ben 315,03 risultano positivi. E pensare che il limite per entrare nella zona rossa è di 150, anche se vanno verificati ulteriori parametri. Gli ospedali marchigiani sono sempre più in affanno. Secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità delle Marche si contano ad oggi 222 ricoveri. Di questi 39 in terapia intensiva, 42 in semi-intensiva, 147 in reparti non intensivi. A livello percentuale i vaccinati rappresentano il 57% dei positivi, il 45% dei ricoveri in area medica, il 28% dei ricoveri in terapia intensiva. Un non vaccinato ha comunque 7 volte la possibilità in più rispetto ad un vaccinato di essere ricoverato in terapia intensiva, si era 9 qualche giorno addietro. 3,3 volte in più la possibilità di essere ricoverato in area medica, si era 4,1. e 2,1 per la positività, quindi il doppio e qualche giorno fa si era 3. 3,3 volte in più la possibilità di essere ricoverato in area medica, si era 5,1 per la possibilità di essere ricoverato in area medica, si era 5,1 per la possibilità di essere ricoverato in area medica.